Buongiorno, sono Marco Astorio di BG Log. In avvicinamento alla fiera MEXP di Bologna, ho il piacere di invitarvi al webinar che organizziamo insieme a Fine Advisors per parlare di tematiche attuali quali l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e la rottura delle forniture. All'interno del webinar parleremo del nostro caso studio, infatti da gennaio 2022 ci stiamo impegnando fortemente per portare in casa parte del processo produttivo. Inoltre, insieme a Fine Advisors tratteremo di alcune soluzioni pratiche che si possono adottare in questo momento per far fronte a queste difficoltà. Vi aspettiamo giovedì 19 maggio alle ore 17. BG Log. Be clever. Work better. Grazie a tutti.